Maurizio Acerbo di Rifondazione Comunista l'ha chiamata la notte bianca della vergogna. Sabato notte, a meno di clamorosi dietro fronte dell'ultima ora, il mercatino degli ambulanti senegalesi nell'area di Risulta di Pescara verrà sgomberato coattivamente, cioè con la forza. Una decisione presa con ordinanza sindacale che sta sollevando numerose polemiche, tra chi interpreta la decisione come l'ennesimo schiaffo all'integrazione e chi, come l'assessore al commercio Giacomo Cuzzi, richiama l'attenzione sulla necessità di garantire la legalità. Proprio dall'amministrazione fanno sapere che si stanno vagliando soluzioni alternative dove spostare il mercatino. Gli ambulanti che sono lì da 20 anni non ci stanno, chiedono il confronto con l'amministrazione comunale e una proroga per permettergli di trovare soluzioni alternative per potersi garantire il lavoro. Se il comune deve sgomberare, io ho ancora la forza di andare a girare sui mercati e fare il lavoro dove lo posso fare. Però qua ci sono gente che hanno 70 anni, 60 anni, che 20 anni lavorano qua e lavorano regolarmente. Queste gente, mica se io faccio un peccato, loro le devono pagare. Devono venire qua a trovare una soluzione, vedere chi ha il diritto e cosa dobbiamo fare. Voi avete le licenze? Abbiamo le licenze. Se lo vogliono vengono qua, chiedono le licenze e gli diamo le licenze. Spero che il sindaco ci ripensi che una cosa, questa iniziativa non gli fa onore. Pensare di fare un blitz è davvero una cosa che non sta né in cielo né in terra. Tra l'altro le licenze sono del comune perché il comune doveva organizzare questi mercatini, attrezzarli e fare in modo che tutto si svolgesse rispetto della legalità. Ma facciamo uno o due mercatini fatti bene, con begli stand e lavoriamo per l'integrazione. Mi domando poi questi del PD, si riempiono tanto la bocca fuori alle chiesi a cercare voti? Ma quello che dice Papa Francesco non lo ascoltano?